Il velo di ghiaccio formatosi sul manto stradale durante la notte scorsa per le basse temperature, ben oltre lo zero termico, non hanno lasciato scampo ad un'automobilista del posto questa mattina, poco prima delle 6, lungo la strada provinciale 45 che porta da Fano a Fenile. Il conducente del veicolo era appena partito da casa e dopo qualche centinaio di metri, subito dopo il cavalcavia che passa sopra l'A14, quando ha affrontato il tratto in discesa ed in curva, ha perso completamente il controllo dell'auto che ha cominciato a scivolare sull'asfalto. A nulla sono valsi i suoi tentativi di frenata, il mezzo nonostante si trattasse di un pesante fuoristrada era incompleta balia del ghiaccio. L'auto poi ha finito la sua corsa dall'altra parte della carreggiata e dopo aver sfondato il guardrail si è capottata nel fossato che corre lungo la carreggiata. Il conducente non ha riportato alcuna conseguenza fisica ed è uscito autonomamente dall'abitacolo, finito in mezzo ai rovi ed ha chiamato i soccorsi che sono arrivati poco dopo che con l'utilizzo di un carro attrezzi hanno estratto il pesante mezzo dal fossato e rimorchiato in officina.